Grande successo ieri al Salone del Libro di Torino per la presentazione del volume Brigata Sassari e Sardegna. Fotografie inedite senza censura dal 1912 al 1937 di Antonio Carruccio. La pubblicazione è stata presentata nello stand del Ministero della Difesa dagli autori, il generale Andrea Di Stasio, ex comandante della Brigata, e il sergente maggiore Sandro Solinas. Presente una corposa delegazione da Biella dell'Associazione Nazionale della Brigata. Il libro, scritto in italiano, inglese e sardo, offre uno straordinario contributo allo studio della storia della Grande Guerra a livello nazionale e alla comprensione della società italiana negli anni precedenti al conflitto e nel decennio successivo. I luoghi fotografati sono quelli del fronte bellico, dell'Italia e della Sardegna, di inizio secolo percorsi dalla Brigata Sassari. Un progetto di scoperta e di importante valorizzazione, edito da Carlo Delfino, che colpisce per l'immediatezza delle immagini selezionate tra 2000 fotografie positive e negative. Oggi la replica della presentazione, sempre al Salone del Libro di Torino, nello stand AES, Associazione Editori Sardi.